Diciamo che il dibattito di questa sera arriva anche con una tempistica abbastanza azzeccata rispetto a queste vicende visto che il 15 luglio sarebbe dovuta scadere la custodia cautelare di Galan e è di due giorni fa che il ricorso che aveva fatto rispetto al suo patteggiamento è stato rigettato per cui ufficialmente dovrebbe anche decadere secondo la legge Severino da parlamentare però è interessante dare qualche elemento in più su questa figura di cui anche scrivi e anzi con cui apri il tuo libro Galan è rimasto 78 giorni in carcere, nel carcere di Opera dove viene portato il 22 luglio a Milano e dopodiché sconta gli arresti domiciliari preventivi nella sua villa sui Colle Euganei, Villa Rodella e patteggia successivamente due anni e dieci mesi più il 54% del denaro quindi 2 milioni e 600 mila euro che adesso a questo punto dovrebbe anche pagare e quindi partiamo magari da qui per guardare a cosa sta succedendo adesso però riprendo anche una cosa che ha detto Maurizio che è se servono queste opere diciamo che un po' da tutti i vostri libri quindi una domanda che ci si fa leggendoli è effettivamente a chi servono perché un elemento che torna spesso è che appunto queste opere sono funzionali a chi le costruisce a chi sta dietro tutto questo sistema e sicuramente non alla cittadinanza poi sul fatto se effettivamente servono e siano utili questo un po' alla volta ci arriviamo Sì grazie, buonasera Giancarlo Galan sarà presidente della Commissione Cultura fino a mercoledì perché mercoledì c'è il cambio di metà legislatura e quindi non perché lui voglia e non perché lo vogliano cacciare ma perché si sono già messi d'accordo si erano già messi d'accordo in ogni caso verrà sostituito però rimane parlamentare però Giancarlo Galan non è più da due giorni dopo il 4 giugno non è più in massoneria si è dimesso dalla massoneria ora non si sapeva neanche che era in massoneria sì, qualcuno l'aveva detto e si viene a sapere il 6 giugno cioè due giorni dopo la batosta gli arresti, 35 arresti, 100 inquisiti e per lui la richiesta di arresto che era iscritto alla massoneria in una loggia qui di Padova perché il gran maestro di questa loggia fa filtrare al Corriere del Veneto che ne scrive il giorno 6 giugno che lui si è messo in sonno allora se tanto mi da tanto la massoneria sì che è una cosa seria perché il gran maestro in questa intervista aveva fatto capire pur con parole dosate che se lui non si fosse messo in sonno l'avrebbero addormentato cioè l'avrebbero cacciato loro allora le istituzioni non si fanno rispettare come minimo come la massoneria Maurizio Denese diceva errore di prospettiva è vero perché il miliardo in 10 anni cioè 100 milioni all'anno di fabbisogno sistemico era quello che ha calcolato per Giorgio Baita cioè pensate fabbisogno sistemico è una definizione perfino suggestiva proprio da ingegnere anche perché poi questi ingegneri sono veramente bravi per esempio Manzacurati il grande capo del Mose interrogato dai magistrati che gli dicono ma scusi ingegnere lei si rendeva conto o no che stava facendo del nero che serviva per pagare corruzione no la parola corruzione non gli viene lui dice fluidificare cioè fluidificare per un ingegnere idraulico è una roba appunto professionale però ecco l'errore di prospettiva io ne aggiungo un altro sarebbe un grosso errore di prospettiva pensare che come ci stanno facendo pensare che il Mose sia uno scandalo veneto o addirittura veneziano visto che scusate a Venezia cosa centriamo noi è uno scandalo nazionale e anche per fare un confronto mafia capitale per esempio di cui si parla continuamente ancora adesso in Italia non solo a Roma mentre la parola Mose è scomparsa dalla campagna elettorale avete sentito parlare voi di Mose noi ci siamo misurati e siamo andati a votare per le regionali cioè per un governo veneto interrogandoci sui profughi e sugli immigrati come se a Venezia avessero i mezzi le competenze la possibilità di intervenire affermare una cosa come minimo è epocale ecco la parola Mose è scomparsa dal lessico però la parola mafia capitale invece serve e ce ne parla continuamente mafia capitale connessi e connessi non fa se non ho letto male non arriva a 200 milioni di euro il Mose ne dava via 100 all'anno un miliardo ha dato via in 10 anni dunque siamo molto sopra perché si parla di mafia capitale perché secondo voi Confindustria Nazionale si è costituita parte civile nei confronti degli imputati di mafia capitale ma Confindustria Veneto non ha fatto altrettanto nei confronti del Consorzio Venezia Nuova perché io mi do una risposta perché in mafia capitale si lucrava sui campi nomadi sui cooperativi di servizio cioè insomma piccola roba nel Consorzio Venezia Nuova ci sono colossi della della meccanica dell'edilizia capirete che per una associazione di industriali toccare un personaggio importante comincia a essere un problemone e comunque la domanda vera che mi facevi era le grandi opere le grandi opere non è soltanto nei nostri libri sono le carte del processo Mose che dicono che le grandi opere nascono perché c'è l'interesse di quelli che poi devono costruire Piero Zobaita interrogato nella primavera del 2013 dai magistrati che l'hanno arrestato racconta che nel 2005 Giancarlo Galan e Renato Chisso lo portano in un ristorante qui dei Colli a Gazziniano e gli spiegano a pranzo e gli spiegano che tu non puoi più presentarti a fare i lavori in regione perché le imprese di riferimento nostre ci hanno detto che hai troppo da lavorare tu occupati di altro hai il Mose e fai il Mose Baita risponde ma scusate io sono entrato nel consorzio Mose pagando ecco qua una prima cosa che diceva dunque il consorzio Mose nasce il consorzio Venezia Nuova nasce nel 1984 per chiamata chiamano le imprese più grosse e poi a un certo punto chiudono la porta che è dentro e dentro e fuori e fuori nel 2003 Baita che vuole entrare con la Mantovani deve pagare 70 milioni di euro e in pregiro che va fuori ma in pregiro non aveva pagato 70 milioni quando era entrata in pratica Baita deve pagare l'avviamento come fosse andata a Baccheria capito un servizio taxi in poche parole questo avviamento erano i soldi che poi si è capito che venivano gestiti venivano distribuiti venivano consumati venivano chiesti e dati senza nessun problema ecco qua perché l'errore di prospettiva che dicevo prima e cioè il fatto che lo scandalo è nazionale e non soltanto perché si rimane fuori ancora un altero Matteoli che è inseguito da una anzi da una richiesta di rinvio a giudizio e si è pronunciato il senato mi pare la camera deve ancora farlo e lui dice che vuole andare sotto processo almeno lui cosa che non ha fatto Giancarlo Galan per dimostrare la sua la sua innocenza vedremo ma e non soltanto per questo nelle carte del processo si parla ad esempio di Gianni Letta Gianni Letta non è inquisito i magistrati non si sono spinti a tanto però Gianni Letta in che contesto viene citato quando Giovanni Mazzacurati aveva un problema si rivolgeva a Gianni Letta e i problemi di Mazzacurati quali erano? il fatto che non arrivavano soldi e i soldi erano quelli non più di un miliardo e rotti due miliardi e mezzo tre quattro cinque cinque erano sempre in aumento e dunque il problema di Mazzacurati era avere finanziamenti in crescita lo scandalo Mose non ha come ci fanno pensare messo in carcere i ladri e per risulta quelli che sono fuori sono tutti onesti dunque la corruzione è stata debellata andiamo avanti così e le grandi opere si facciano no le grandi opere e qui concludo avrebbero bisogno come minimo di un tagliando adesso che Luca Zaia non può più dire non sapevo Siri avevo Renato Chisso assessore con incarichi che io stesso gli avevo dato però mi sfuggiva adesso la nuova amministrazione regionale come minimo avrebbe bisogno che tutti noi di qualunque idea politica siamo o qualunque voto abbiamo fatto pretendessimo che si mettesse a fare un tagliando passasse diciamo verificasse singolarmente queste grandi opere che sono nate io nel libro ne faccio un elenco sono nate soprattutto come dicevo prima citando l'incontro nel ristorante di Gazziniano sono nate perché per esempio quelle stradali Pierciotto Baita aveva bisogno di far lavorare la Mantovani e così si è buttato sulle concessioni ha immaginato una serie di cose da fare per esempio c'è il sistema delle tangenziali venete secondo voi c'è bisogno di un raddoppio dell'autostrada da Padova a Verona a pagamento questa è un'idea che è venuta a Pierciotto Baita che vale un toto di miliardi questa serie di opere messe assieme sono nel portafoglio di Adria Infrastrutture insieme valgono 16 miliardi di euro Adria Infrastrutture era talmente interessante che quando Pierciotto Baita nel 2006 va a parlarne a Renato Chisso e a Giancarlo Galà i due gli dicono ostrega bello possiamo comprarne anche noi una quota e così ne comprano il 7% Giancarlo Galà e il 5% Renato Chisso poi a un certo punto Renato Chisso vuole farci liquidare e Baita divaluta la quota sapete quanto vale quanto è stata valutata la quota del 5% di Adria Infrastrutture un miliardo e 800 milioni di lire che Baita ha pagato a Minutillo a Claudio Minutillo convinto scusate un milione 1 milione e 800 mila euro scusate che sono andato per farfalle rettifico e mancava altro 1 milione e 800 mila euro che che Baita paga alla Claudia Minutillo ho convinto di pagarla a Baita viceversa poi i due dicono no io non ho mai avuto i soldi insomma c'è una baruffa in piedi fra di loro e comunque si dimostra ancora una volta a quello che sappiamo e cioè le grandi opere sono pensate dai privati come prima esigenza il loro interesse e dopo forse una ricaduta dell'interesse generale anche se la ricaduta principale è un aumento dei costi per noi